Molti anni fa, fu testimone di un fatto angoscioso che divenne una tragedia. Una giovane coppia era prossima al parto del loro primo figlio. Erano pieni di aspettative e di eccitazione per questa esperienza meravigliosa. Durante il parto sorsero alcune complicazioni e il bimbo morì. L'angoscia si trasformò in dolore, il dolore in rabbia, e la rabbia e il biasimo divenne il desiderio di vendetta nei confronti del medico che ritenevano pieno o responsabile. I genitori e gli altri parenti vennero pesantemente coinvolti. Ognuno cercò di rovinare la reputazione e la carriera del medico. Durante le settimane e i mesi successivi la lacrimonia consumò la famiglia e la sua amarezza si è stesa al Signore. Come è potuto permettere che succedesse una cosa così terribile? Rifiutarono i ripetuti tentativi di conforto emotivo e spirituale da parte dei dirigenti e dei membri della Chiesa, che con il tempo abbandonarono. Oggi quattro generazioni della famiglia hanno risentito di questa situazione. Una volta esisteva la fede e la devozione al Signore e alla sua Chiesa, esprita qualsiasi attività spirituale di ogni membro della famiglia per decenni. Nelle circostanze più difficili della vita esiste spesso un'unica sorgente di pace. Il Principe di pace, Gesù Cristo, estende la Sua grazia con l'invito. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Poi va avanti dicendo, vi do della mia pace, ma non quella del mondo, ma di quella che io vi do. I miei nonni paterni ebbero due figli, un maschio, mio padre, e una femmina. Dopo aver svolto la missione e il servizio militare all'Hawaii, mio padre tornò sulle isole nel 1946 per affermarsi professionalmente e crescere la sua famiglia. I suoi genitori vivevano a Salt Lake City, così come sua sorella. Lei si sposò nel 1946 e quattro anni dopo aspettava un bambino. Per i genitori è un'occasione davvero speciale, quando una figlia, in questo caso l'unica figlia, sta per dare luce a un bambino per la prima volta. Nessuno sapeva che stesse aspettando due gemelli. Purtroppo, lei e i gemelli morirono durante il parto. I miei nonni erano distrutti. Il dolore, tuttavia, li fece volgere subito al Signore e alla sua espiazione. Senza speculare sul perché fosse accaduto e a chi potessero incolpare, essi cercarono la pace che sopravvanza ogni intelligenza e si impegnarono a vivere una vita retta. I miei nonni non furono mai ricchi, non appartenevano ai ceti alti e non ebbero mai posizioni di rilievo nella Chiesa. Erano semplicemente dei voti santi degli ultimi giorni. Dopo restati in pensione nel 1956, si trasferirono alle Hawaii per stare con la loro unica posterità. Negli anni seguenti, essi amarono la loro famiglia e seguirono nella Chiesa. E erano proprio felici nello stare insieme. Non amavano stare separati e parlavano anche di come il primo di loro che fosse morto avrebbe potuto trovare il modo per ricongiungersi al più presto. Così, dopo il novantesimo compleanno e dopo 65 anni di matrimonio, morirono a distanza di poche ore l'uno dall'altro per cause naturali. Qual loro vescovo diressi il loro funerale. La fedetà del nonno Art e di nonno Lou, specialmente davanti alle difficoltà, ha influenzato positivamente le quattro generazioni che sono seguite, direttamente e profondamente. Ha toccato il loro figlio, mio padre, e mia madre quando la loro figlia più giovane morì a causa di complicazioni causate dal parto. Lei morì a 34 anni, dieci giorni dopo il parto, lasciando quattro figli, il più giovane che aveva dieci giorni, il più vecchio con otto anni di età. Con l'esempio avuto dalla generazione precedente, i miei genitori si sono rivolti senza esitazione al Signore in cerca di conforto. In tutto il mondo e tra i membri della Chiesa troviamo grande gioia e grande dolore. Entrambi fanno parte del piano. Senza l'uno non possiamo conoscere l'altro. Gli uomini sono affinché possano provare gioia. E, poiché è necessario che ci sia un'opposizione in tutte le cose, non sono in contraddizione. Sono complementari. Nel descrivere i propri sentimenti, mentre si volgeva il Signore, Alma, il giovane, disse, la mia anima fu riempita da una gioia tanto grande quanto era la mia pena. Qualcuno è colpito da gravi problemi. Altri lasciano che le piccole cose diventino grosse. Simon Ryder, un dirigente cambellita, sentì parlare della Chiesa e si incontrò con Joseph Smith. Toccato dall'esperienza, si unì alla Chiesa nel giugno del 1831. Immediatamente dopo, fu ordinato anziano e chiamato a svolgere una missione. Tuttavia, sulla lettera di chiamata che ricevette dalla Prima Presidenza, sul suo mandato ufficiale di predicatore, il suo nome era scritto sbagliato, per una sola lettera. Il suo cognome era scritto R-I-D-E-R invece di R-Y-D-E-R. Ciò lo portò a dubitare sulla sua chiamata e su coloro che l'avevano promossa. Decise di non andare in missione e abbandonò la Chiesa e ciò portò presto all'inimicizia e all'intensa opposizione verso Joseph e la Chiesa. Nel marzo del 1832, quando Joseph Smith e Sidney Rigton furono trascinati fuori dalla casa di John Johnson durante la notte da una folla arrabbiata e cosparsi di peci di piume, si sudì una voce gridare «Simon, Sammons, dov'è il secchio della pece?» In meno dieci mesi, Simon Ryder passò dall'essere un convertito entusiasta a capo della plabaglia e la ragione del suo declino spirituale fu il sentirsi offeso per l'aver visto il suo nome scritto sbagliato per una sola lettera. Non importa la grandezza del fatto e il modo in cui reagiamo può cambiare il corso della nostra vita. Il profeta Joseph Smith ci lasciò un esempio di come reagire all'opposizione e alle tragedie personale e il Signore gli diede una guida in rivelazione mentre Joseph era rinchiuso nell'inumano carcere di Liberty. Se gli stolti ti tratteranno con derisione, se sei chiamato a passare attraverso le tribolazioni, se sei in pericolo fra falsi fratelli, se sei accusato con ogni sorta di falsa accusa e se i tuoi nemici piombano su di te, se tu fossi gettato nella fossa o nelle mani degli assassini o se soprattutto le fauci stesse dell'inferno si spalancano la bocca contro di te, sappi, figlio mio, che tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene. Poi la profonda dichiarazione. Il figlio dell'uomo è sceso al di sotto di tutte queste. Sei tu più grande di lui? A ciò fanno seguito una guida sicura e grandi promesse. Perciò, segui la tua strada. E il sacerdozio rimarrà su di te perché i loro limiti sono fissati, poiché Dio sarà con te per sempre e in eterno. Negli anni che seguirono Joseph Smith continuò a vivere rettamente una vita piena di avversità. Ci offrì la sua prospettiva piena di fede e quanto ai pericoli che sono chiamato a attraversare non mi sembrano che poca cosa e in acque profonde che sono abituato a nuotare mi sento di esultare nelle tribolazioni poiché Dio mi ha liberato da tutte e mi libererà da qui in seguito. La fiducia di Joseph nel superare la costante opposizione era basata sulla sua capacità di volgersi di continuo al Signore. Se sentite di aver subito un torto da qualcuno, un membro della famiglia, un amico, un altro membro della Chiesa, un dirigente della Chiesa, o un socio d'affari, o da qualcosa, la morte di una persona cara, problemi di salute, problemi finanziari, abusi e dipendenze, affrontate la cosa direttamente con tutta la forza che possedete. Segui la tua strada. Rinunciare non è un'opzione e, senza tardare, volgetevi al Signore. Esercitate tutta la fede che avete in Lui. Lasciate che Egli condivida il vostro fardello. Permettete alla Sua famiglia di alleggerirvi il carico. Ci è stato promesso che non soffriremo alcuna sorta di afflizioni, salvo quelle che sarebbero state sopraffatte dalla gioia di Cristo. Non permettete mai che un fatto terreno vi incapaciti spiritualmente. Nel Suo supremo sacrificio, l'espiazione richiese che Gesù discendesse al di sotto di tutte le cose e soffrisse le pene di tutti gli uomini. Così comprendiamo che l'espiazione ha uno scopo più vasto dell'essere solo un mezzo per sconfiggere il peccato. Il più grande di tutti gli addempimenti mortali dà al Salvatore il potere di mantenere la sua promessa. Se vi volgerete al Signore con pieno intento di cuore e riporrete in Lui la vostra fiducia e se lo servirete con tutte diligenze della vostra mente se lo farete Egli vi libererà dalla schiavitù. Nel celebrare questa mattina di Pasqua volgiamoci al Signore la nostra lucente stella mattutina. Rendo testimonianza che Egli sarà per sempre la nostra via la nostra verità e la nostra vita nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.